Musica Ben ritrovati amici di Padre Pio TV Oggi parliamo nuovamente in questo spazio salute di patologie che riguardano la vista L'argomento odierno è il foro maculare e per parlarcene ecco noi in studio il dottor Antonio Berarducci che è medico oculista in servizio presso Casa Sollievo della Sofferenza Benvenuto fra noi dottore Grazie a lei dottor Campanella, un saluto a tutti i telespettatori Allora, ai telespettatori cominciamo col dire perché chiaramente i nostri telespettatori non sono né medici né oculisti che cos'è l'argomento di oggi, cioè che cos'è un foro maculare Allora, quando si parla di patologie della retina o di chirurgia vitroretinica la prima cosa a cui si pensa un po' nell'immaginario collettivo è il distacco di retina come se fosse l'unico problema che necessita di un intervento chirurgico Bene, come vedrete oggi non è così esiste un'ampia gamma di problematiche retiniche che ha bisogno di un approccio di questo tipo e uno di questi è il foro maculare il foro maculare che non è così raro come si pensi anzi, è una causa relativamente comune di perdita della visione centrale e non è altro che un buco al centro della retina Allora, se immaginiamo il nostro occhio come se fosse una fotocamera le lenti di questa fotocamera sono rappresentate dalla cornea e dal cristallino mentre la pellicola su cui vengono proiettate le immargini è la retina Ebbene, il foro maculare non è altro che un buco al centro della retina ma non in una parte qualsiasi della retina nella porzione centrale della retina, la macula che è una zona altamente specializzata che ha un diametro di circa 500 micron, quindi 5 mm che serve alla visione distinta delle immagini quindi se io parlo con lei, la fisso le immagini, i dettagli del suo volto mi sono dati dall'attività della macula mentre la rimanente porzione del campo visivo mi è data l'attività della porzione di retina Esattamente Ha una prevalenza di circa 7-8 casi ogni 100.000 abitanti gli individui di sesso femminile sono Quindi è abbastanza elevata come incidente E relativamente Questo dato riguarda l'Italia o riguarda il mondo? No, questi sono dati internazionali Interessa più frequentemente individui di sesso femminile nella sesta-settima decada con un rapporto di circa 3 a 1 Solitamente si presenta come una problematica unilaterale che interessa un occhio solo anche se in realtà c'è un rischio che non è bassissimo è stato quantificato essere intorno al 12-13% di avere un interessamento dell'occhio controlaterale a 2 anni quindi insomma non è infrequente trovarsi di fronte a pazienti che hanno una patologia di tipo bilaterale Abbiamo detto che colpisce più frequentemente le donne di un'età diciamo abbastanza avanzata ma si è capito anche da questi elementi quali sono le cause e quali sono, se non sono state individuate le cause, i fattori di rischio? Come vedete in questa diapositiva che adesso verrà mandata le cause possono essere varie che si va da traumi a edema maculare cistoide ovvero un'infiammazione cronica a livello della regione maculare Ecco, quando parliamo di traumi di che genere parliamo? Traumi contusivi sul bulbo Tipo il pugno del senso sul ringo da pugilato O la pallonata Anche la pallonata? Assolutamente, assolutamente Mi è capitato nella pratica clinica di avere un paziente che ha sviluppato un foro maculare da un trauma con una mazza da cricket Quindi voglio dire, è un trauma di un certo tipo, di una certa forza diretti al bulbo oculare Quindi diciamo, traumi, poi? In alcuni casi può essere idiopatico, quindi miopia elevata anche se in una gran parte di patologie, insomma, di fori maculari quello che si riscontra è quella che viene chiamata patologia dell'interfaccia vitrioretinica Che cosa vuol dire? Se prendiamo quella diapositiva, quell'immagine lì al centro abbiamo un occhio in sezione Bene, l'occhio è pieno di una sostanza gelatinosa altrimenti non collasserebbe su se stesso che si chiama vitrio Questa palla di gelatina è costituita dal 90% da acqua e dal rimanente percentuale di fibrille collagene Ebbene, col passare del tempo, quindi con l'età o con alcuni fattori predisponenti nella miopia elevata insomma, tutta una serie di fattori che ne possono facilitare lo sviluppo la concentrazione di acqua all'interno di questa palla di gelatina si riduce per cui la palla di gelatina tende a rimpicciolirsi è un processo assolutamente dinamico durante il quale la porzione posteriore della palla di gelatina che normalmente è aderente alla retina si comincia a scollare dalla retina Non so se l'ha mai provato, abbiamo provato un po' tutti a spalmare la colla Vinavil sulla mano e poi a pelarla via Benissimo, quello è quello che succede al gel, si comincia a staccare in un punto e poi pian piano tende a staccarsi dalla rimanente porzione di retina se durante questo tragitto incontra un'area di maggiore resistenza e se questo avviene a livello maculare tira oggi, tira domani, tira dopo domani lo vedete nella diapositiva c'è un'immagine in sezione sulla destra vedete che questa pallina di gelatina tirando, tirando, tirando crea proprio un buco al centro della macula in alcuni casi il foro maculare si può formare indipendentemente dal fatto che ci sia una trazione o meno ovvero quando la palla di gelatina anche si è completamente staccata questo perché alcune fibrille collagene permangono sulla superficie retinica tendono a contrarsi, cominciano a contrarsi in direzione centrifuga e stirano la macula in porzione centrale creando questo foro maculare come se fosse la bocca di un vulcano insomma per intenderci per renderlo così in maniera molto molto semplicistica Esiste anche un tipo di foro maculare detto lamellare che differenza c'è? Esiste, la differenza sostanziale è legata al fatto che se mandiamo la diapositiva la retina è formata da diversi strati nel foro maculare lamellare qui abbiamo due esempi il foro non interessa tutti gli strati retinici ma vengono preservati gli strati retinici più profondi quello fondamentalmente è quello dei fotorecettori che sono quelle cellule che ci permettono di vedere non essendo interessato a questo strato la visione di questi pazienti solitamente non è intaccata per cui non è necessario un intervento chirurgico a meno che non ci sia un'evoluzione verso un foro maculare a tutto spessore Quali sono i sintomi? Cioè come uno si accorge che sta che ha avuto oppure se che sta per avere se c'è magari qualche segnale premonitore che sta per avere un foro maculare I sintomi iniziali spesso sono un pochettino subdoli fondamentalmente perché i pazienti tendono a guardare con l'occhio controlaterale quindi non se ne accorgono per cui non se ne accorgono se ne rendono conto quando in maniera del tutto casuale tendono a coprire l'occhio buono e si rendono conto che qualcosa non sta andando per il verso giusto nell'occhio affetto oppure se viene fuori durante una visita di routine dall'oculista I sintomi iniziali sono rappresentati da una perdita della visione centrale difficoltà nella lettura comparsa di immagini distorte vedete lì in alto a destra c'è un test che si chiama AMS of the Grid è rappresentato da una griglia fondamentalmente con delle linee orizzontali e verticali che si intersecano tra loro normalmente noi le apprezziamo come linee rette nei pazienti con metaborforpsia appaiono come linee distorte il grado di distorsione poi dipende dal grado di avanzamento della patologia negli stadi più avanzati quello che si viene a creare è uno scotoma centrale ovvero una sorta di macchia cieca al centro del campo visivo che non mi permette di vedere i dettagli delle immagini per cui questi pazienti non diventeranno mai ciechi se questo può essere confortevole tuttavia perderanno la visione centrale ed è attraverso quel test con quella specie di griglia che abbiamo visto che si arriva alla diagnosi o ci sono strumenti diagnostici più evoluti dopo quel primo test? ecco lo stiamo rivedendo per fare una diagnosi è fondamentale ovviamente l'esame clinico del paziente che è quello che fa l'oculista durante una visita di routine appoggiamo il mento alla fronte su quell'impalcatura che l'oculista ha con questi microscopi attraverso le lenti particolari si guarda il fondo dell'occhio per cui è possibile individuare la presenza di un buco al centro della macchina una volta che abbiamo il sospetto diagnostico poi ci vengono in aiuto alcune metodiche strumentali e di questo ovviamente la più importante è l'OCT l'OCT non è altro che una sorta di TAC anche qui volendo dire in maniera molto semplicistica che a differenza della TAC che utilizzano i nostri colleghi radiologi utilizza una sorgente laser per cui le onde, questa sorgente laser viene proiettata all'interno dell'occhio sulla superficie retinica le onde luminose e riflesse vengono elaborate da un computer e quindi danno un'immagine in sezione molto dettagliata della retina e quindi fanno vedere il foro fondamentalmente quindi con questo esame strumentale si arriva alla certezza diagnosi assolutamente sì e esiste una sorta di stadiazione attraverso una individuazione di vari livelli di patologia oppure no? diciamo si passa dall'occhio sano all'occhio totalmente bucato e quindi malato? malato no esiste una stadiazione la prima persona a fare la diagnosi è stata un certo GAS un bel po' di tempo fa che prevedeva la classificazione dei fori immaculari in quattro stadi diversi che cominciavano col foro immaculare incipiente poi è stato soltanto negli ultimi anni credo intorno al 2013-2014 non so dirlo con esattezza che alcuni studiosi esperti a livello internazionale sono lì tra loro per cercare di dare una classificazione che tenesse in qualche modo conto delle caratteristiche dell'OCT per cui è stato distinto un foro immaculare primario ovvero quello che è in qualche modo relazionato con la trazione di questa gelatina sulla macula e un foro immaculare secondario che non ha nulla a che fare con la trazione vitriomaculare così come una classificazione che prevede la distinzione in fori di piccole e medie e grandi dimensioni per quanto riguarda l'evoluzione naturale di questo problema di questa patologia soltanto una piccolissima percentuale di fori tende a chiudersi quindi a regredire spontaneamente senza una cura adesso che sia di tipo medico-chirurgico adesso lo vedremo più tardi ma nella maggior parte dei casi si ha un'evoluzione verso stadi più avanzati questo accade nel 74 quindi più del 70% dei casi e di questi il 75% di questi occhi non trattati a 5 anni ha una visione pari a un decimo o meno questo ci fa capire quanto sia importante una diagnosi che sia relativamente precoce e allo stesso modo un trattamento che tende a risolvere il problema nel più breve tempo possibile senza lasciare poi troppo tempo la patologia senza essere curata quindi non si arriva ad una cecità ma quasi non si arriva ad una cecità intesa per quello che intendiamo noi buio assoluto nel senso che i pazienti manterranno per sempre una visione periferica ma avranno difficoltà e incapacità nella visione centrale nella visione distinta delle immagini centrali a Spazio Salute stiamo parlando del foro maculare con il dottor Antonio Berarducci che è medico in servizio presso casa sorriva da sofferenza nel reparto di oculistica essendo egli oculista e abbiamo accennato nella parte precedente a questo strumento che è in grado di fare la diagnosi certa di foro maculare che è l'OCT a parlarci di questo strumento diagnostico adesso è il dottor Raffaele Di Pumpo un collega del dottor Berarducci un altro oculista in servizio presso casa solleva della sofferenza ascoltiamo e vediamo oggi sono qui per parlarvi fondamentalmente di che cos'è questo apparecchio l'OCT a quali malattie diciamo ci permette di diagnosticare la retina e non da ultimo non meno importante quali sono questi segni importanti di cui il paziente può accorgersi per arrivare in tempo per prevenire per curare queste patologie della retina allora vi presento questo è l'OCT, l'apparecchiatura OCT Optical Coherent Tomography cioè fa delle scansioni, fa dei tagli che ci permettono in maniera molto accurata, molto precisa di poter vedere e diagnosticare tra le diverse malattie è un fascio laser, entra dentro l'occhio attraverso la finestra dell'occhio, cioè la cornea e poi attraversa la pupilla la parte colorata, cioè l'iride ma entriamo ancora e attraversiamo il cristallino che quando si spuocca è la cataratta ma noi dobbiamo proseguire, arrivare nel fondo dell'occhio lì nel fondo dell'occhio attaccata alla parete del fondo c'è la retina come vedete queste sono dei luoghi molto piccoli, molto profondi nell'occhio ma l'OCT ci permette tranquillamente di poter vedere queste patologie importanti questo è un OCT normale, tagliato in tutti i suoi strati questa è la parte importante, centrale, che non è più grande di mezzo millimetro quindi anche chirurgicamente quando noi dobbiamo aggredire queste malattie stiamo lavorando in mezzo millimetro, eccetera l'immagine entrata nell'occhio deve essere vista qui per poi essere portata al cervello con il nervo ottico passiamo a delle malattie invece che bisogna aggredire chirurgicamente questo è un esempio in cui una pellicina che sta sulla retina tirando strappa il tessuto e purtroppo la fessura proprio al centro lì dove l'ha vista ed ecco che realizza un foro maculare che deve essere trattato chirurgicamente per cui questo è un altro esempio di come qualcosa che tira spezza la retina e gli fa il buco un punto importante che vorrei sottolineare da ultimo è quali sono dei segni che il paziente può percepire per arrivare in tempo alla diagnosi e quindi alla terapia tutte queste malattie sono fondamentalmente legate a una macchia comparsa di una macchia centrale scura dottore dove leggo la parola, mezza parola vedo mezza parola no, da ieri mi succede questo un secondo segno importante da non trascurare è dottore mentre leggo vedo tutto storto la parola mentre vedo il viso vi vedo tutto di storto ecco non sottovalutate questi segni che diciamo possono effettivamente fare la differenza bene abbiamo parlato delle cause abbiamo ripetuto anche i sintomi di questa patologia patologia del foro maculare abbiamo descritto anche l'incidenza sulla popolazione mondiale abbiamo visto anche qual è lo strumento per la diagnosi certa adesso cerchiamo di capire dottor Berarducci come si cura il foro maculare l'approccio a questo tipo di patologia può essere fondamentalmente di tre tipi osservazionale come dicevo prima per una piccola percentuale vediamo come si evolve se si chiude da solo vediamo che cosa succede il foro è molto piccolo abbiamo una trazione sulla macula magari una trazione molto piccola abbiamo il sospetto che se la trazione dovesse diciamo risolversi in maniera spontanea il foro si può chiudere si potrebbe decidere di aspettare di guardarlo una seconda opzione è un'opzione che prevede l'iniezione di un farmaco all'interno dell'occhio che si chiama ocriplasmina non è altro che un enzima che va a digerire a mangiare fondamentalmente quel ponte di gelatina che si crea tra il vitrio e la retina cioè un'iniezione che si fa nell'occhio un'iniezione che si fa nell'occhio una volta diciamo digerita e mangiata questa trazione non essendoci più una trazione sulla macula teoricamente il foro si potrebbe chiudere è un trattamento che comunque è indicato soltanto per una piccola percentuale per una percentuale di casi assolutamente selezionata nella maggior parte dei casi quello che è necessario però è un intervento chirurgico si parla di chirurgia mininvasiva quindi chirurgia eseguita con strumenti piccolissimi 25 gauche, 27 gauche si creano dei piccoli per capire che cos'è? su questa diapositiva in basso a sinistra vedete un occhio ci sono dei buchetti si aprono dei piccoli buchi di un millimetro, due millimetri sulla superficie oculare che servono poi a inserire gli strumenti che ci aiuteranno a portare a compimento l'intervento chirurgico quindi si entra con gli strumenti all'interno dell'occhio si mangia via e si aspira la palla di gelatina si colora la porzione più superficiale della retina la vedete nell'immagine centrale con delle pinze molto piccole si va a pelare via la porzione più superficiale in questo modo abbiamo la garanzia che qualsiasi eventuale trazione tangenziale o verticale che sia in qualche modo venga eliminata e alla fine questa palla di gelatina viene poi sostituita da una bolla di gas che aiuta poi la chiusura del foro maculare le percentuali di successo sono altissime l'intervento viene fatto immaginate che la macula a livello centrale ha uno spessore di 200 micron 200 micron vuol dire un quinto di un millimetro quindi noi a mano libera andiamo a lavorare su delle strutture utilizzando un microscopio all'interno dell'occhio su strutture estremamente piccole quindi questo vi fa capire quanto anche il tremore fisiologico della mano possa in qualche modo inficiare sulla buona riuscita dell'intervento e ovviamente anche le attrezzature sono importanti noi abbiamo la fortuna qui a Casa Sollievo di avere uno staff molto preparato i nostri strumentisti sono fantastici grazie al nostro primario l'amministrazione abbiamo a disposizione più recenti tecnologie nell'ambito delle macchine e dei materiali quindi da questo punto di vista l'intervento viene eseguito in maniera assolutamente rutinaria quasi con cadenza settimanale per cui con delle percentuali successo che sono molto alte superiore al 90% tuttavia anche qualora il foro maculare non si dovesse chiudere è possibile rintervenire sempre una diapositiva che vi mostravano pochi attimi fa in basso a sinistra ci sono due immagini in sezione la prima è quella del foro che è un foro di dimensioni molto grandi e in basso vedete il foro maculare è completamente chiuso qui si tratta di un foro maculare sul quale si è reintervenito chirurgicamente quindi questo ci fa capire che anche qualora il primo intervento non vada a buon fine è possibile avere una seconda chance solitamente sulla seconda chance la percentuale di successo scende al 65-70% quindi il paziente rimane con questa palla di gelatina sostituita perennemente da questo gas? no, l'utilizzo del gas iniettato all'interno dell'occhio è soltanto temporaneo abbiamo diversi tipi di gas gas che durano tre settimane gas che durano un mese gas che durano un paio di mesi poi la scelta è assolutamente soggettiva e dipende dall'operatore il gas viene poi progressivamente sostituito da del liquido chiaro trasparente che è prodotto dal nostro occhio quindi fondamentalmente viene in qualche modo eliminato nell'arco di qualche settimana dopo l'intervento è importante mantenere una certa postura? questo è un po' ancora un qualcosa di cui si parla allora quando noi vediamo i nostri pazienti e succede anche a noi un po' quando facciamo delle consulenze mediche la prima cosa è andare su internet a casa e cercare Dr. Google che cosa dice? quindi è una leggenda metropolitana no no in realtà no perché se date un'occhiata ai dati vedrete c'è qualcuno che dice che è fondamentale mantenere una postura nel trattamento del foro maculare c'è qualcuno che dice che non è assolutamente necessario per quanto riguarda la mia esperienza io ho avuto la fortuna di essermi formato da questo punto di vista in Inghilterra mi ricordo i primi mesi in cui ero lì al paziente nel momento in cui veniva fornita la lettera di missione si forniva una sorta di impalcatura di metallo con un salsicciotto con un buco al centro simile a quello dei fisioterapisti che utilizzano i fisioterapisti quando fanno fisioterapia per cui il paziente doveva passare purtroppo sette giorni dopo l'intervento con la faccia appoggiata sul cuscino guardando il pavimento non sono passati molti anni questo nel 2010 negli ultimi diciamo la tendenza attuale è quella che ci dice che effettivamente per i fori di grandi dimensioni mantenere una postura del capo stretta e stretta vuol dire che nell'arco di un'ora ci sono 50 minuti di postura e 10 minuti per fare quello che ci serve durante la nostra giornata che va da alimentazione a propri bisogni naturali assolutamente in realtà questo non si sa se effettivamente è vero per i fori di piccole e medie dimensioni quello che è in qualche modo importante è che la bolla di gas sia a stretto contatto col foro in questo modo si rompe la tensione superficiale dell'acqua a livello del foro in qualche modo si aiutano i margini del foro a avvicinarsi e quindi si facilita la chiusura anatomica del foro alla quale però non corrisponde un altrettanto risultato funzionale e questo un po' è il problema di tutti i chirurghi vitroretinici magari la retina è bellissima attaccata senza un buco al centro ma in realtà la visione non è aumentata tantissimo quello che si ottiene soltanto dal punto di vista diciamo strettamente visivo è una stabilizzazione della situazione e un miglioramento della visione che non supera mai una o due linee dell'ottotipo l'ottotipo per intenderci è quella è quella carta con quella quella grata con tutte le lettere che l'oculista ci chiede di vedere durante una visita di routine ci sono dei rischi per questo intervento? ci sono dei rischi che però ripeto come detto prima grazie alle tecnologie di ultima generazione in termini di strumenti e macchinari sono assolutamente minime con la chirurgia microinvasiva la possibilità di avere complicanze basse e sono quei rischi che abbiamo in qualsiasi tipo di intervento chirurgico fondamentalmente sono rappresentati da un caso su mille di avere una condizione che si chiama endoftalmite che è un'infezione severa all'interno dell'occhio che porta a cecità la possibilità di avere un insuccesso chirurgico un 2% di probabilità di avere complicanze intraoperatorie maggiori come di stacchi di emorragia quindi in realtà le complicanze non si può dire che non esistono ma sono piuttosto basse infine c'è qualcosa che dopo l'intervento bisogna evitare per evitare problemi? è una controindicazione assoluta e sicuramente sottoporsi insomma entrare in ambienti pressurizzati o depressurizzati ma questo per quanto tempo? come l'aeroplano per tutto il tempo che la bolla di gas è all'interno dell'occhio questo perché per esempio l'aeroplano ha un ambiente pressurizzato la bolla di gas è un gas espandibile per cui può espandersi e oltre a causare dei dolori importantissimi a livello oculare può avere complicanze tipo ischemico che portano a cecità quanto tempo dura la permanenza del gas e quindi la sostituzione con questo liquido prodotto naturalmente questo dipende dal gas utilizzato quindi ripeto esistono alcuni gas che durano tre settimane altri che durano due mesi quindi dipende da quale gas è utilizzato dal chirurgo al momento di intervento chirurgico dipende ovviamente la durata dello stesso all'interno dell'occhio grazie al dottor Antonio Berarducci per averci parlato del foro maculare e grazie anche a voi amici telespettatori per averci seguito anche oggi grazie grazie a tutti grazie a tutti